Oltre 30 opere d'arte, tra statue e candelabri, sculture in bronzo formelle, dipinti e addirittura un affresco tra fugati per lo più in chiese e luoghi di culto della Toscana sono state recuperate e restituite ai loro proprietari dai carabinieri del Comando Provinciale di Firenze e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. I furti erano stati messi a segno a partire dall'aprile 2022 e avevano toccato anche la provincia di Arezzo. Dal santuario di Santa Maria delle Vertighe era stata trafugata una statua in gesto raffigurante una madonna con bambino. Le indagini erano poi partite a seguito di un colpo nella chiesa di San Felicia Ema. Adesso il presunto responsabile, un 47enne fiorentino, inchiodato da alcuni filmati dai circuiti di video e sorveglianza, è indagato per furto aggravato, furto e ricettazione di beni culturali. Alcuni beni trafugati erano stati trovati nell'abitazione di Firenze di un cittadino romeno indagato per ricettazione. Era infatti in collegamento con il 47enne e per lui, secondo gli inquirenti, avrebbe nascosto molte opere anche in una cantina di una sua casa a Ponte Greve, dove furono trovati anche altri beni culturali, risultati rubati poco prima del periodo delle indagini. Si indaga infine anche su una terza persona un rigattiere del fiorentino indagato per ricettazione.